La procura di Gela ha aperto un fascicolo sequestrando le cartelle cliniche e la documentazione inerente al vaccino somministrato all'insegnante di Gela di 37 anni che 11 giorni prima aveva ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Venerdì mattina ha cominciato ad accusare un forte mal di testa, è stato confusionale. Dopo il trasporto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato disposto il trasferimento al Sant'Elia dove è stata sottoposta ad un delicato intervento di neurochirurgia. La donna, secondo i primi accertamenti medici, sarebbe stata colpita da trombosi ed emorragia cerebrale. Il primario di anestesia e rianimazione Giancarlo Foresta ha compilato la scheda di sospetta reazione avversa al farmaco per l'AIFA. La paziente a quanto sembra non aveva malattie pregresse. Personalmente non ho la competenza per stabilire se esiste una relazione tra il vaccino e il quadro clinico della ragazza. Ha detto Foresta gli approfondimenti dell'AIFA serviranno proprio a chiarire questo.